L'aggressione in pieno giorno registrata ieri a Teramo ha scosso una delle aree più frequentate della città. Una donna di 51 anni di origine marocchine è stata accoltellata all'addome sotto i portici dell'ufficio postale di Via Pannella. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le circostanze e il movente dell'aggressione. I carabinieri intervenuti prontamente hanno interrogato la donna che ha dichiarato di non aver riconosciuto l'aggressore e di non essere stata in grado di fornire informazioni utili alla sua identificazione. Le indagini si stanno concentrando su un possibile momento personale. Non si esclude che l'aggressione possa essere legata a questioni sentimentali o familiari. La vittima, nonostante la gravità della ferita, ha avuto la prontezza di chiamare il 118 per chiedere aiuto. I soccorritori giunti sul posto l'hanno trovata riversa a terra con una profonda ferita all'addome e l'hanno trasportata ad urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini. Dopo una valutazione iniziale che aveva fatto temere il peggio, i medici hanno potuto confermare che la coltellata non aveva colpito organi vitali. La ferita è stata suturata e la donna è stata dimessa qualche ora dopo con una prognosi di 10 giorni. Per cercare di identificare i colpevoli, i carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, a partire da quelle posizionate presso l'ufficio postale. Tuttavia il fatto che la vittima sia stata dimessa con lesioni giudicate lievi limita la possibilità d'azione delle forze dell'ordine. In assenza di una denuncia da parte della donna non si potrà procedere penalmente d'ufficio. La collaborazione limitata della vittima stessa potrebbe quindi complicare ulteriormente la possibilità di individuare l'aggressore e fare piena chiarezza sull'accaduto.